Per la sesta giornata di campionato il Rimini va a far visita al Sasso Marconi, fiori avversario dei Biancorossi nello scorso campionato di eccellenza. Società ripescata in estate, reduce da un pesante 0-5 sul campo della Fiorenzuola. Mister Muccioli deve fare a meno di Cicarevic, fermato da un risentimento al tendine. In avanti giocano Arlotti, Ambrosini e Buonaventura. La partita, al quarto Guiebre fugge a sinistra e mette al centro. Minelli anticipa in corner Arlotti, pronto alla deviazione alle sue spalle. Al quinto, retropassaggio potente di Brighi, sfera a lato alla destra di Scotti, proteso in tuffo, per evitare il peggio. Sugli sviluppi del corner, Zaccanti non trova il tempo per la deviazione. La sfera resta pericolosamente nell'area bianco-rossa, prima di essere messa di nuovo in angolo. Sulla battuta dalla bandierina di Cortese, Noselli stacca di testa, pallone a lato. Al quarto d'ora, il Rimini si porta in vantaggio. Arlotti anticipa di testa Galassi, Viti si può involare verso la porta di Monari. Prendere la mira e superarlo con un raso a terra a fil di palo. 0-1, secondo gol di fila per il giovane bianco-rosso di scuola a Frosinone. Al ventunesimo, punizione per il Rimini dalla distanza. Ambrosini ci prova, il suo tiro viene bloccato senza patemi da Monari. Al ventitresimo, cross insidioso da sinistra di Galassi. Uscita alta di Scotti che sfiora di quel tanto che basta per non far pervenire il pallone a Noselli. Al ventiseghiesimo, bel cambio di gioco del Rimini da sinistra a destra. Traversone di Arlotti, Minelli mette in angolo, in acrobazia. Al trentottesimo, Benatti si libera bene sull'auto di destra. Il suo cross è perfetto per Ghimà, che mette in rete. Ma c'è la bandirina alzata del Guardaline a segnalare un fuorigioco del numero nove in giallo. Gol non convalidato. Al quarantunesimo, Buonaventura calcia al giro un metro dietro il dischetto. Minelli salva pochi passi dalla porta. Al quarantaquattresimo, Montanari allarga per Arlotti, che mette al centro. Stacca Viti, che di testa manda a fondo campo. Al terzo della ripresa, Noselli per Benatti, che mette al centro un altro gran pallone per Ghimà. La conclusione vincente del giocatore di Moscariello è ancora vanificata dalla bandirina alzata del collaboratore dell'arbitro. Gol non convalidato. Al settimo, Buonaventura per Ambrosini, il cui tiro dal limite dell'area è facile preda di Monari. Al quarto d'ora, Benatti riprende una respinta corta della retroguardia ospite calcia, sfiorando il bersaglio. Pallone di un soffio oltre la traversa. Al ventiquattresimo, ripartenza delle Rimini dopo il break di Righini, sull'asse Buonaventura-Ambrosini-Arlotti. Ci sarebbe fallo sul numero 11, Biancorosso, ma l'arbitro lascia proseguire perché la palla arriva da Arlotti, a sua volta stesionara da Galassi. Rigore giallo per il difensore del Sasso Marconi. Sul dischetto si presenta Ambrosini, che spiazza Monari e porta il Rimini sul 2-0. Secondo centro in campionato per l'ex Imolese. Al trentaduesimo, Ambrosini per Buonaventura, che si sistema il pallone e va al tiro, Monari si rifugia in corner. Al quarantunesimo, il tiro di Buonaventura è centrale, nessun problema per l'estremo di casa. Al quarantaseiesimo, tiro insidioso di Benatti, Scotti pare in due tempi. Al quarantottesimo, la punizione dal limite dell'area di Buonaventura è al lato di un soffio. E l'ultima emozione finisce 2-0 per i Biancorossi, che salgono a quota 12 in classifica. E mercoledì torna la Coppa Italia, con il Rimini che ospiterà la Vispesaro.